2021 quest'anno avete vinto il premio sirena di bronzo per la vostra collaborazione con l'olio non lo so forse se lo posso dire si lo posso dire con l'olio torretta per il packaging giusto l'olio torretta è un olio di battivaglia quindi penso che è una cosa onorevole per la città di battivaglia diciamo che è un olio che vince sempre spesso e volentieri un sacco di premi questa volta è stato premiato non solo per la qualità dell'olio anche per l'etichetta per il design dell'etichetta che noi abbiamo come elementi creativi l'azienda di cui sono amministratore art director li abbiamo abbiamo seguito e quindi insomma siamo onorati abbiamo già vinto diversi premi non è il primo premio che vinciamo per l'olio torretta è un progetto che mi rende particolarmente orgoglioso anche perché l'azienda torretta è l'azienda di mia moglie della famiglia della mia compagna e quindi sei doppiamente soddisfatto lo faccio con il cuore quindi le cose fatte con passione poi vedi vengono riconosciute e non solo sul territorio perché poi questo è un progetto che sa che ha vinto diversi premi una eboli qualche anno fa con una diciamo se si può dire una giuria di esperti internazionali che ha valutato questo progetto meritevole di essere premiato il premio si chiamava food graphic quindi era tutto un evento incentrato sui packaging alimentare quindi un evento di settore non un evento di packaging in generale un evento di packaging per il fondo quindi emergere in una determinata nicchia quindi vuol dire che hai fatto un bel lavoro perché comunque c'è la nostra gente nello specifico sarebbe proprio occupato delle immagini sul packaging noi ci occupiamo addirittura della scelta della confezione della bottiglia della progettazione della bottiglia realizziamo proprio il prodotto da zero